Al via il prossimo 11 settembre, weekend gastronomici autunno 2016. L'iniziativa di Confcommercio della provincia di Pesaro Urbino, in collaborazione della Camera di Commercio di Pesaro Urbino e della Banca Intesa San Paolo, giunta alla 33esima edizione, continua ad attrarre un pubblico sempre più vasto. Valorizzare il territorio attraverso un'offerta enogastronomica di qualità ad un prezzo adeguato. L'obiettivo dell'iniziativa è stato ampiamente premiato dai numeri che fa registrare. 71 ristoranti partecipanti, 44 località coinvolte, tra le quali Nova Feltria e San Leo, in provincia di Rimini. Prezzi indicati tra le 18 euro e le 21 euro, con offerte intermedie, inalterati rispetto al 2011. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta presso la Taverna del Pescatore, Castel di Mezzo, Pesaro, il direttore di Commercio Provinciale, Amerigo Varotti, ci ha dato ulteriori notizie, senza tralasciare le novità. Quest'anno poi abbiamo voluto abbinare i weekend estivi, i weekend da mare, che si stanno svolgendo ancora fino all'11 settembre nelle località della Costa. Questo ristorante fa parte del gruppo di ristoranti che partecipano ai weekend da mare, alla nuova edizione autunnale dei weekend gastronomici, che partono l'11 settembre, quindi il termine dei weekend da mare con la ripartenza dell'edizione, che è quella più fortunata normalmente, che è l'edizione autunnale dei weekend che noi realizziamo da ben 33 anni. Quindi l'evento più longevo nella storia degli eventi non gastronomici della nostra regione, seguito dai consumatori di più regioni che già da giorni ci chiedono il materiale per incominciare a prenotare nei ristoranti. I partner come la Camera di Commercio sono indispensabili per realizzare un'iniziativa che coinvolge 71 ristoranti, oltre 40 località della nostra provincia ed anche ristoranti della provincia di Rimini che prima erano nelle Marche, insieme alla Camera di Commercio, Intesa San Paolo, il gruppo Era, gli enti bilaterali. Quest'anno poi abbiamo voluto anche dare maggiore spazio all'interno dei weekend gastronomici a due località, Pergola e Sant'Angelo Invado, a cui abbiamo destinato, nel ormai famoso libretto di presentazione dei weekend, uno spazio ampio perché i weekend gastronomici sono anche la scoperta o la riscoperta delle località più belle del nostro territorio. Penso al Museo dei bronzi dorati di Pergola e alla Domus del mito di Sant'Angelo Invado che è la scoperta archeologica più importante degli ultimi 50 anni. Il Confcommercio gestisce i servizi museali di queste due città e quindi vogliamo invitare i consumatori che vanno a mangiare nei ristoranti della provincia a visitare poi queste due città e questi due musei. Quest'anno dunque, come abbiamo sentito, spazio e promozione a Pergola e Sant'Angelo Invado, non solo perché Confcommercio gestisce in quelle città i servizi museali o l'ufficio turistico, ma perché rappresentano indubbiamente le perle più rare della provincia. Questa forte collaborazione tra il comune di Pergola e la Confcommercio di Pesero e Urbino che fa sì che al di là della valorizzazione con i weekend gastronomici delle nostre migliori strutture di ristorazione che esaltano i prodotti di questo territorio vi sia la cultura del cibo ma vi sia anche la cultura delle eccellenze che possono offrire da un punto di vista architettonico o come il caso di Pergola archeologico le nostre città. Ed ecco l'unico gruppo di bronzo dorato di epoca romana esistente al mondo che accompagnerà i weekend gastronomici per tutta la loro durata, soprattutto con una guida che verrà conservata nelle famiglie della nostra provincia, nelle famiglie marchigiane per tutto il periodo autunnale e invernale. I weekend gastronomici sono una delle iniziative che tendono a migliorare quelle che sono le nostre attività, a dare anche un'informazione veicolare a chi vuole andare ad esempio a mangiare bene e spendere anche il giusto e questo credo che sia un fatto molto importante. La Confcommercio sta facendo questa iniziativa da alcuni anni, da parecchi anni ed ha sempre avuto successo. I ristoratori aderenti a questa manifestazione sono sempre più numerosi e questa è la dimostrazione che è un'iniziativa azzeccata, che bisogna continuarla, bisogna curarla, alimentarla e noi stiamo facendo questo come Camera di Commercio, cerchiamo di dare quel poco di contributo che possiamo dare perché con i tagli che abbiamo avuto da parte del governo diventa un po' difficile mantenere tutti i rapporti che avevamo in passato, però credo che comunque ce la possiamo fare. Lo dice la parola, 33esima, vuol dire che è stato indovinato il binomio ristoranti a prezzo adeguato, trasparente con i famosi libretti e in più la gente può girare e visitare il territorio. Mio figlio aveva un amico americano, gli ho fatto vedere questi libretti, sarebbe bene organizzare un tour con biciclette elettriche in questi bei ristoranti e così si vede tutto il territorio. Banca Intesa San Paolo, un grande gruppo impegnato a valorizzare economicamente il territorio anche attraverso l'arte e la cucina. Si dice che i numeri spesso non dicono tutto, ma in questo caso dicono molto. Intesa San Paolo per la verità è il primo anno che partecipa perché raccoglie un'eredità storica da parte di Banca dell'Adriatico, a significare che tutto ciò che c'è di valore nei nostri territori può avere una risonanza anche a livello nazionale. Bisogna dare merito a ConfCommercio che è stata così tenace, è stata così intuitiva nel portare avanti questa iniziativa, soprattutto rispetto anche a quello che emerge da recenti sondaggi, questi bei numeri di questa stagione turistica 2016. 12 miliardi di euro dell'intero giro d'affari promossi dal turismo sono stati seduti a tavola e questo significa che il viatico, enogastronomia, turismo, cultura è assolutamente il percorso sul quale bisogna stare e sul quale con merito ConfCommercio sta da anni. Continuano ad accompagnare l'iniziativa Weekend Gastronomici anche gli enti bilaterali del commercio e del turismo e EraCom Marche. Il gruppo Era vuole essere, in particolar modo nel territorio delle Marche, vicino ai propri clienti. Lo ritiene un valore molto importante, quello della vicinanza per supportare la propria clientela ma anche assieme alle associazioni di categoria e quindi attraverso ConfCommercio di Pesaro Urbino essere presente e seguirli con un gruppo di assistenza e un pool importante di professionisti che aiutano l'associato a fare la scelta migliore cercando di ottimizzare nei costi dell'energia per essere altrettanto loro competitivi. Ecco che nascono delle offerte mirate proprio per gli associati e allo stesso tempo anche la possibilità di avere punti di riferimento come i nostri EraCom Point anche sul territorio. Taverna del Pescatore aderisce al circuito weekend gastronomici. Oggi che cosa ha preparato in occasione della conferenza stampa? Abbiamo una degustazione di tre antipasti freddi, ravioli con ripieno di pesce, secondo pesce dell'Adriatico al forno con le patate e le olive e i capperi. Tutte cose preparate in casa con pesce fresco della zona. Il panorama chiaramente ha il suo peso, visto che siamo davanti al mare e cuciniamo pesce prevalentemente dell'Adriatico, però ci vuole anche la cucina che sia all'altezza del panorama. Lo sforzo che ogni ristoratore fa per mantenere i 18-21 euro deve essere una cosa letta come a livello pubblicitario, la quale porta o in qualche modo fa nascere l'esigenza di prendere la macchina, andare a respirare un po' di profumi di montagna, trovare qualche prodotto, vedere qualche scorcio autunnale, anche perché l'occasione è buona ed è anche ghiutta.